Un partenariato pubblico privato per sostenere le attività del nuovo Tricalle Sistema Cultura a Chieti. Il bando per recepire proposte di sponsorizzazione è a cura della soprintendenza alle belle arti e paesaggio di Chieti Pescara in collaborazione con la cooperativa Mirare che si occupa in Abruzzo e Molise della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Per inviare le proposte c'è tempo fino al 15 aprile 2022. Il bando è disponibile sul sito mirarecoop.it e su quello della soprintendenza. Un partenariato che è frutto di un percorso condiviso, un obiettivo della soprintendente Rosaria Mencarelli era proprio quello di riaprire la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle. Lo ha definito più volte un luogo importante e prestigioso, identitario della città di Chieti e dell'intero territorio. La chiesa infatti che sorge all'incrocio di tre strade da cui il nome Tricalle è sempre stata un punto di riferimento cittadino perché è dedicato al culto della Vergine Maria per affondare le proprie radici nel culto pagano di Diana Trivia ed oggi torna come punto di riferimento per la cultura a Chieti. Un uso consapevole di un bene chiuso da 40 anni, il partenariato si propone di diventare un tavolo di regia e di sperimentazione perché il luogo diventi un'antenna di attività culturali e sociali in grado di stimolare una prassi costruttiva tra pubblico e privato nell'intento di promuovere attività e momenti di riflessioni utili al progresso culturale di un territorio.